Sono qui con Giacomo Monocchiano, un protagonista di sempre dello scenario di Prea e di Milano. Lui presidente di Antiquari, una grande passione, una grande storia, ma ha voluto essere uno dei primi, devo dire, dei primi protagonisti di questa esperienza della settimana d'arte contemporanea. Un negozio antiquariato che espose un'idea di modernità, cioè il passato e il futuro che si incontrano attraverso una testimonianza importantissima, quella di Grazia e D'Aristo che è un'intuizione, devo dire, è fatto da solo, noi non abbiamo merito, noi non abbiamo merito, è lui l'inventore di questa vicinanza. L'arte antica, un testimonio attraverso gli anni Sessanta, uno dei periodi più fruttuosi, più, diciamo, creativi dello scenario di Prea, nazionale e internazionale dell'arte italiana e poi la proiezione invece in futuro. Lo diciamo, Manipian, ieri, oggi e domani. Prego. Sì, ma è una passione, anzi io devo ringraziarti perché è stato il tuo stimolo. Quindi io, nonostante fosse un antiquari, ho detto voglio trovare un modo di partecipare a questa iniziativa che era di tutto importantissima, perché una persona come lui è riuscito ad aggregare istituzioni, galleristi, eccetera. Grazia Varisco è un'amica da molti anni che conosco, quindi stimo moltissimo. Io da bambino negli anni Sessanta osservavo queste sculture e questi oggetti cinetici che mi hanno sempre affascinato, quindi mi sembrava vero di riuscire a farlo. Grazia ha accettato di buon grado, nonostante stia facendo una personale al museo Ritter di Waldenburg in Germania e mi ha concesso di esporre questi pezzi bellissimi che vanno dagli fine anni Cinquanta agli ultimi e attuali lavori. È un'occasione per dire che l'arte non ha soluzioni di continuità, dall'archeologia o dalla preistoria ad oggi è sempre arte. Poi noi andiamo a definirla perché comunque deve essere in qualche modo inquadrata in una definizione, ma l'arte è sempre arte, quindi il merito grosso di Brer Arte è quello di attirare l'attenzione delle persone al bello, all'armonia che sia antica, contemporanea o ipercontemporanea come Niccoli dici, è sempre un modo per arricchirsi. Grazie, quindi speriamo che il buon lavoro abbia successo. Grazie a tutti.